Ultimi scampoli di 2014, incontriamo il direttore sportivo dell'Udinese Cristiano Giaretta per fare un po' il bilancio dell'anno solare ma parlare anche dell'attualità, cioè del calcio mercato che sta per riaprire i battenti della gara con la Roma che sarà la prima del nuovo anno per i bianconeri e per gli auspici del 2015 di una Udinese che ha chiuso molto bene il 2014 con un bel risultato positivo a Genova ma vuole iniziare evidentemente nel segno della continuità dei risultati ma partiamo direttore da un bilancio di quest'anno solare il 2014 che stiamo per lasciarci alle spalle è stato un anno solare dal punto di vista sportivo direi comunque positivo prima di tutto perché abbiamo mantenuto la categoria e non è sempre una banalità questa cosa scontata, è sempre una dura lotta, fare i punti in serie è una cosa sempre molto difficile e quindi abbiamo potuto proseguire quel discorso e quel progetto di strutturazione, di migliorie di questa società che con il nuovo stadio che è in grandissima costruzione raggiungerà sicuramente un profilo ancora più alto di quello attuale. dal punto di vista puramente tecnico ecco personalmente dico che ci è mancata forse quella continuità di rendimento di prestazioni e quindi di risultati che ci avrebbe permesso di raggiungere qualche obiettivo più importante rispetto a quella di una semplice salvezza che però ripeto non è così solamente semplice. Dando un'occhiata ai numeri del 2014 scopriamo che Totò di Natale oltre a tutti i record che ha raggiunto è tagliato nel corso di quest'anno solare anche il primato di essere l'attaccante più prolifico della nostra Serie A con 21 reti segnate, a 18 si sono fermati Tevez e Toni. Cosa significa per il calcio italiano al di là dell'Udinese il fatto che Totò continua ad essere un attaccante così pericoloso nonostante sia avanti con l'età? Ma è l'esempio chiaro che la classe pura non ha età, Totò è dotato di una classe pura, è un artista del calcio e quindi siamo molto fortunati, dobbiamo essere orgogliosi di averlo in maglia bianconera e segnerà ancora e aumenterà ancora i suoi attuali record. Cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente delinearsi ad altissimo livello in Serie A non è cosa semplice. I giovani fanno fatica, forse non ci sono ancora i giovani di classe pura come quella di un Totò di Natale vedi ad esempio a Balotelli che ha dei problemi di continuità di rendimento dettati soprattutto dal punto di vista caratteriale e non puramente tecnico quindi bisogna saper bilanciare bene gli aspetti caratteriali oltre che quelli tecnici e Totò in questo senso è un esempio perché comunque è un ragazzo, prima di tutto un professionista in campo ma soprattutto fuori dal campo, è un ragazzo molto serio, è molto rispettoso dei propri compagni è trainante per il gruppo e quindi è un esempio e questi sono gli segreti che oggi forse i giovani fanno un pochino più fatica a capire. Il 2014 è stato anche l'anno del deciso cambio di direzione per la conduzione tecnica della squadra si è passati da un allenatore esperto che arrivava anche da una continuità di risultati negli anni come Francesco Guidolini alla scommessa Stramaccioni, un allenatore giovane si può fare dopo qualche mese già un primo bilancio del lavoro di Andrea Stramaccioni? Un primo bilancio è senz'altro positivo, lo dicono i nostri punti in classifica e i numeri nel calcio contano e come. La bravura del mister Stramaccioni che è un allenatore molto giovane di saper coinvolgere a 360 gradi tutto il gruppo, che è un gruppo molto numeroso perché noi abbiamo 31 giocatori in rosa. È un allenatore che spende molto tempo nel dialogo con i ragazzi e credo che questa sia una delle caratteristiche più importanti che gli allenatori attuali, moderni devono avere. Quella della gestione del gruppo credo che possa essere l'aspetto che fa la differenza tra un buon allenatore e un allenatore di eccellenza. Il nostro mister è un allenatore ambizioso, uno che è molto attento a questo tipo di gestione e poi ha saputo mettere in campo quelli che sono i suoi, credo, tecnici e tattici e l'abbiamo visto, insomma, ha partito con la difesa 3, poi abbiamo messo la difesa 4 abbiamo fatto dei risultati importanti con il 4-4-2 cioè è un attore che si adatta molto bene ai giocatori che ha in essere studia molto gli avversari e mette sempre in campo i giocatori che sanno sempre quello che devono fare sia quando hanno la palla sia quando non ce l'hanno vuol dire che in settimana si lavora molto sull'aspetto puramente tattico sullo studio degli avversari, insomma, è un allenatore che dedica tantissimo tempo al proprio lavoro e questo è importante perché lui, assieme con il suo staff dedica molto tempo alla preparazione di una gara perché dietro una partita ci sono sempre delle lunghe ore di lavoro non solamente in campo ma anche in video, nello studio dell'avversario e quant'altro. Di recente il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha detto che la Juventus è pronta ad investire all'estero con l'acquisizione di club in Spagna ed in Portogallo quella delle multiproprietà è stata sicuramente una delle operazioni che ha visto l'Udinese primeggiare come tempistica rispetto agli altri club questo per ovviare ai noti problemi che ci sono in Italia nella gestione di rose ampie non essendoci la possibilità di avere le cosiddette seconde squadre cosa significa il fatto che un club importante come la Juventus arrivi dopo l'Udinese in quella che sembra essere al momento l'unica strada per permettere al calcio italiano di svilupparsi? Assolutamente sì, direi proprio che è così, insomma, se il massimo esponente del calcio che conta, il presidente della Juventus, ha queste affermazioni da come riferimento il modello udinese, insomma, dobbiamo solamente essere orgogliosi ma io credo che tutti quanti lo siamo, anche il tifoso friulano, comunque il tifoso udinese che molte volte o spesso è deluso da qualche risultato però dentro ognuno di ogni tifoso io credo che ci sia la consapevolezza che questa sia una società che sta crescendo tantissimo ne ha dimostrazione lo stadio che sarà il secondo stadio di proprietà dopo appunto quello della Juventus stanno nascendo delle aree molto importanti come le aree hospitality la nostra clubhouse sta diventando qualcosa di veramente eccellente insomma, tutte quante le aspetti che possono portare questa società ad essere una società dell'ite, di riferimento appunto per i club anche più importanti quello della multiproprietà è senz'altro un esempio importante da parte nostra che sicuramente laddove possono altre società cercheranno di seguire e credo che anche la Juventus stessa sia in linea con noi sulla ricerca comunque anche di questa seconda squadra ecco perché con le difficoltà che abbiamo in Italia ad avere la seconda squadra anche la Juventus cercherà adesso di delineare una multiproprietà all'estero perché è il nostro problema principale, uno dei problemi principali del nostro calcio è proprio quello che non riusciamo poi a valorizzare i giovani come vorremmo perché il gap che c'è tra la primavera e la prima squadra è troppo ampio a livello di età ci sarebbe davvero bisogno delle seconde squadre in Italia credo che in questo senso stiamo facendo molta fatica l'obiettivo potrebbe essere più immediato quello della multiproprietà anche in Italia e vediamo insomma io credo però che il tavecchio della situazione si debba adoperare molto in questo senso dare una mano al calcio attraverso la creazione di queste benedette seconde squadre Il 5 gennaio riaprirà il calciomercato, ci sarà la cosiddetta sessione invernale che mercato sarà secondo lei? Premesso che a gennaio di solito è difficile che si concretizzino grandi colpi Sì, in effetti il mercato di gennaio è solitamente un mercato molto difficile nel quale bisogna sperare in generale di non avere bisogno perché circolano quasi sempre giocatori che hanno trovato poco spazio nei rispettivi club e quindi sono giocatori da mettere in condizioni, magari non sono delle primissime scelte eccetera Quest'anno in effetti c'è più bisogno invece di muovere un po' il mercato soprattutto in certi ruoli come gli attaccanti e i portieri ecco ci sono diverse squadre quest'anno che si stanno muovendo in questo senso o in Italia comunque con club all'estero e i nomi che circolano in questi giorni ne sono sicuramente un esempio io credo che forse quest'anno, dopo qualche anno, gennaio sarà un mercato più importante da questo punto di vista Che mercato sarà invece per l'Udinese? In questi giorni lei è più volte intervenuto per precisare alcune cose in particolare su calciatori che sono nel mirino di alcuni club Gennaio, come dicevamo, è un mercato particolare L'Udinese ha sempre detto che non vende i suoi calciatori a stagione in corso Com'è comunque in questo momento la linea strategica del club per un mercato che sta per iniziare? Il mercato di gennaio, ma il mercato in generale in effetti ha sempre delle variabili inaspettate e non controllate Confermo che noi a gennaio non cederemo giocatori più importanti ma abbiamo il dovere comunque come società, come abbiamo sempre fatto mettere al corrente dei nostri tesserati qualora ci fossero delle opportunità importanti e qualora con quel tesserato stesso manifestasse la volontà di cambiare e di provare un'altra destinazione In questo periodo si parla molto di Muriel, ad esempio, un giocatore che per noi, sappiamo tutti, ha un valore altissimo non ha ancora espresso il massimo delle proprie potenzialità per svariate ragioni ma siamo certi del suo valore, siamo certi che prima o poi queste potenzialità verranno fuori come già ci ha fatto intravedere un paio di anni or sono, con 11 reti in un girone di ritorno Ci sono delle richieste per Muriel, ci sono diversi club che chiedono di lui e questo lo dice lunga sul valore del giocatore, visto che non ha ancora giocato con una certa continuità eppure le richieste arrivano Stiamo valutando, insomma, valuteremo insieme al ragazzo, alla persona della gente le opportunità che arrivano e valuteremo con grande attenzione la migliore, eventualmente, la migliore opportunità nel caso ci possa essere che aggradi il giocatore stesso e noi della società però non è un nostro pallino per cui Muriel debba uscire assolutamente è un giocatore sul quale puntiamo e non è detto che esca però, come detto prima, le variabili del mercato sono sempre quelle più inaspettate e abbiamo il dovere comunque di condividere con il giocatore stesso certe opportunità E veniamo adesso alla più stretta attualità Le 12 e 30 del 6 gennaio si giocherà il lunch match tra Udinese e Roma Purtroppo l'Udinese dovrà fare a meno di alcuni calciatori tra sub-20 i giovani evangelisti Zapata e soprattutto Coppa d'Africa con Badu convocato dal Ghana e molto probabilmente anche Vague dal Mali Anche la Roma avrà qualche defezione, una Coppa d'Africa che crea inevitabilmente problemi ai club Purtroppo la Coppa d'Africa è questa In questo periodo c'è sempre l'immigrazione dei giocatori africani verso questa manifestazione molto importante Da un certo punto di vista ovviamente ci dà orgoglio perché comunque è una manifestazione importantissima la massima manifestazione per i nostri giocatori africani ma è così, io credo che avremo poche speranze di trattenere Badu e anche Uaghe perché a sua volta è stato convocato dalla federazione maliana Stiamo interagendo con le federazioni chiedendo comunque il posticipo di poter aggregare quindi i ragazzi solamente dopo la partita con la Roma ma credo che non sia possibile perché comunque le federazioni a loro volta hanno sempre le loro esigenze però è un problema che toccherà un po' a tutti abbiamo nominato la Roma, anche la Roma hanno Gervinio e Keita, Maliano anche lui e quindi molto probabilmente non saranno disponibili nella nostra partita però al di là di questo noi dobbiamo ripartire giustamente come è ben detto da una grandissima prestazione che abbiamo messo in campo a Genova dove traiamo delle indicazioni molto importanti per noi cioè vedere la squadra con quella aggressività, con la voglia di fare risultato in un campo forse, anzi il campo più in forma del momento in Serie A è stato qualcosa di molto bello, gratificante per il lavoro di tutti dobbiamo ripartire da lì abbiamo fatto vedere che possiamo giocarcela con tutti anche in campi molto difficili e quello è stato un bel esempio di calcio perché tutti, anche i giornali il giorno dopo di tutta Italia hanno scritto che è stata una partita da Premier League per intensità, per aggressività, per contorno e quindi questo tipo di prestazioni dobbiamo metterle in campo sempre poi piano piano avremo anche e vogliamo regalare delle prestazioni importanti soprattutto anche per i nostri tifosi perché dobbiamo gratificarli anche dal punto di vista dello spettacolo, del gioco il calcio alla fine è uno spettacolo e se il spettacolo deve essere noi dobbiamo cercare di metterlo in campo sempre per portarli sempre più numerosi allo stadio abbiamo bisogno di loro, ci devono incitare fino alla fine dobbiamo prepararci tutti alla grande festa, per la nuova casa e i risultati sono molto importanti i risultati servono a cascata per far star bene tutti per far star serene tutti, per gratificare i tifosi abbiamo bisogno di questo E l'occasione per infiammare il pubblico del Friuli può essere sicuramente la gara con la Roma l'Udinese in questo inizio di stagione nel suo cammino discontinuo sotto il profilo delle prestazioni ha fatto vittime illustri tra le grandi squadre come Lazio, Inter e Napoli la Roma quindi può rappresentare sicuramente la motivazione per dare quel qualcosa in più e iniziare un 2015 nel migliore dei modi Sicuramente sì, arriva una signora Roma una squadra importantissima che anche quest'anno punta l'obiettivo dello scudetto e quindi giocatori di primissimo livello Bene, però il nostro credo deve essere che la Roma prima di passare su questo campo debba sudare cento camicie prima di superarci, di portare a casa i tre punti Noi ovviamente dobbiamo mettere in campo tutto quanto noi stessi una prestazione cagliarda e aggressiva come quella che abbiamo disputato a Genova sempre a prescindere a maggior ragione contro una Roma che ha tra le proprie file dei giocatori di altissimo livello non può disputare una gara banale o approcciare la gara in maniera troppo tranquilla dobbiamo essere cattivi mettere in campo una prestazione cattiva e ci piacerebbe davvero aprire il nuovo anno con una grandissima prestazione e magari un bel risultato per i nostri tifosi Infine, direttore, cosa si augura per il 2015? Per il 2015 mi auguro soprattutto un obiettivo di squadra perché comunque sia in campo o fuori dal campo nel cui lavoriamo tutti i giorni abbiamo un obiettivo unico di squadra siamo una squadra anche fuori dal campo noi dirigenti quello di attraversare un anno sereno attraverso il raggiungimento di obiettivi sportivi tutto quanto ruota intorno al campo ho parlato ancora del nuovo stadio tanti progetti che abbiamo come Udinese Caccio i progetti che abbiamo sono davvero tanti sono complessi ma sono molto progettuali e lungimiranti quindi il desiderio davvero è di innalzare ancora ulteriormente questa asticella di serietà e comunque di progettualità che ha questa società che è già un'asticella molto alta è già un'asticella molto alta